un cordiale saluto a tutti voi buongiorno ben ritrovati oggi lunedì 16 16 di marzo 2015 ci stiamo avvicinando alla primavera ma di primavera c'è ben poco guardate che fotografia ha scattato la nostra webcam è un cielo grigio poi se ci mettiamo anche i blackout elettrici che stanno interessando molte zone già da ieri sera molte zone della città di fano e non solo di fano con continui blackout elettrici con insomma corrente che vai che viene chi ha avuto la fortuna di avere un po di corrente durante la notte molti non l'hanno avuta quindi oggi un po di disagi insomma a partire dai cellulari che saranno scarichi quindi si farà meno per un giorno del cellulare o comunque perlomeno se ne riparlerà nel pomeriggio o per loro basta portare una ricarica in ufficio o laddove c'è la corrente insomma comunque questi sono particolari dettagli 9 gradi la temperatura oggi avremo cielo nuvoloso nella prima parte della giornata sono previsti fenomeni diffusi nel settore della provincia di peso urbino a carattere sparso nelle altre zone avremo nevicate oltre 1700 metri le temperature lieve aumento per domani domani martedì 17 marzo migliora lungo la costa come vedete dalle immagini ancora residui residui precipitazioni nel su monte nerone nell'entroterra anconetano poi per i prossimi giorni fino a giovedì nelle marche ci saranno condizioni di variabilità con temperature sostanzialmente stazionarie allora andiamo adesso a leggere il santo del giorno oggi è sante riberto il sole sorto alle 6 e 20 tramonterà alle 18 e 14 la baia flaminia l'altra sera a pesaro è successa una cosa strana in controtendenza alla vista di delle nove pattuglie dei carabinieri che fermavano le auto in partenza alle 3 le 4 le 5 di notte dai locali della baia frotte di ragazzi sono andati a piedi al posto di blocco chiedendo di essere sottoposti al test alcolico una volta scoperto il loro che il loro sangue aveva superato il limite consentito di 0 50 quasi quindi il doppio praticamente ebbene si sono rivolte ai tassisti e sono tornati a casa lasciando le auto parcheggiate questo è per ricordare per per raccontare di questa di questa operazione dei carabinieri contro le stragi del sabato sera dove appunto questi ragazzi hanno chiesto l'alcol test e sono tornati a casa in taxi però ci sono state 9 patenti ritirate e 200 giovani controllati non solo Rex vedere il cane c'era anche lui l'altra notte in giro per la baia Rex ha scoperto uno spinello nelle tasche di un giovane di 19 anni che è stato evidentemente poi segnalato ancora dal resto del carlino i costi della sanità il resto del carlino questa mattina pubblica la top 10 dei primari e i loro stipendi gli stipendi dei primari e il boom dell'attività professionale Coschiera Paolo Coschiera che è il direttore dell'unità operativa diagnostica per immagini Pesero Fano guadagna ha dichiarato 460 mila euro di cui 352 mila e qualche cosa da attività libero professionale quindi Coschiera scrive il carlino si conferma il paperone staccati invece Valerio Beatrici direttore dei reparti di urologia Pesero Fano e Marabini sempre sul resto del carlino andiamo su Fano il 5 per 1000 al comune mai dure reazioni alla proposta fatta a Fano dai giovani per seri è la proposta fatta dai giovani che hanno appoggiato e che appoggiano ovviamente il sindaco Massimo Seri la proposta qual è? Diamo il 5 per 1000 versiamo il 5 per 1000 a favore del comune di Fano per sopperire ai minori trasferimenti dello Stato i grillini in particolare Ansuigno, Miccioli e Ruggeri replicano assolutamente no mai perché dai giovani per Fano ci saremmo dai giovani noi giovani per seri insomma ci saremmo aspettati di ascoltare parole come innovazione taglio agli sprechi stop ai favoritismi sia la meritocrazia alla programmazione invece chiedono di fare beneficenza al comune poi sempre per quanto riguarda le politiche, per quanto riguarda scusate le regionali si è votato nei circoli cittadini ebbene Renato Claudio Minardi è il candidato consigliere regionale il PD di Fano quindi ha deciso, hanno decretato gli iscritti dopo le tre assemblee della settimana scorsa anche se l'ultima parola aspetterà alla segreteria provinciale del PD e poi quella regionale però in totale Minardi ha ottenuto 145 nomination contro le 62 di Rosetta Fulvi 49 di Federico Perini sostenuto dai giovani del partito le 25 di Daniele Dagata e 16 dell'ex sindaco Cesare Carnaroli lo sport invece con, anzi no, andiamo prima sull'altra pagina, la cronaca sempre dal resto del Carlino un bracconiere finito in trappola, uccide un cinghiale sul San Bartolo subito visto dai selezionatori, una multa per lui fino a 25 mila euro la squadra dell'Urca ha visto la carcassa a terra, fucili e munizioni sono stati sequestrati dicevo lo sport, fanno spettacolo quaternina, il Fano ieri in casa ha vinto 4 a 0 contro la Miternina tutto facile contro i modesti abruzzesi, assegno le punte, doppietta di Sivilla, Gucci e Sartori le pagelle, Cesaroni, due assist al bacio, Sivilla, qualità che fa la differenza e poi, beh, fa ridere, ed è curioso, questo, nella pagella, Ginestra il portiere che è non giudicabile perché in effetti, non perché non abbia giocato ha giocato tutta la partita ma non gli è arrivato nessun tiro nello specchio della porta quindi, spettatore non pagante, e quindi, insomma, non è giudicabile in effetti, ieri Ginestra non ha fatto nulla perché poteva starsene tranquillamente seduto Gabellini, invece, il patron del Fano, o rivisto, il Fano migliore la squadra ha fatto ciò che doveva, la maceratese, se vince sempre, vuol dire che merita ieri a un certo punto, lo sentirete anche nella telecronaca di stasera di Sergio Catalani a un certo punto, quando si è scoperto che il gol della maceratese è stato fatto su una papera colossale del portiere della Vispesero qualcuno ha gridato all'ufficio inchiesta, insomma, come dire qui alla maceratese sta andando tutto troppo bene però, comunque, e quindi risponde, ecco perché dice Gabellini se la maceratese vince sempre, vuol dire che merita quindi, nessuna dietrologia Marco Alessandrini, l'allenatore, gara interpretata bene ci tenevamo a rispondere dopo la partita di Celano che è stata un po' così opaca apriamo adesso velocemente il Corriere Adriatico Pesero perde il controllo e si schianta grave un motociclista in via Cilea a Pesero nei pressi del Campo Scuola un uomo di 30 anni che si trovava alla guida di una moto da crossa ha perduto improvvisamente il controllo del suo mezzo ed è finito violentemente contro un'auto a centropagina, sette piani contro il degrado di Viale Fiume il progetto del palazzone oggi affronta il consiglio di quartiere residenti sul piede di guerra da Fossombrone, chiesa di San Filippo bellissima e di pregio vedete Vittorio Sgarbi in visita a Fossombrone come guest star della mostra mercato del tartufo bianchetto e sempre a Fossombrone si parla dello struggente ricordo di Laura Grillo di Tavernele di Serungarina morta un anno fa a 19 anni per un male incurabile fino a ieri sono stati registrati circa 30.000 post scritte, dediche, messaggi sui social network per condividere il ricordo appunto di Laura Laura che frequentava il quinto anno dell'istituto di istruzione superiore donati di Fossombrone la pagina di Fano gli operatori scommettono sul bel tempo primi lavori in zona mare per l'accoglienza pasquale in settimana aprono i locali stagionali il lungomare coperto di sabbia portata dal vento ma nel giro di qualche settimana tutto dovrebbe andare a posto il messaggero Ricci si sfoga a proposito di alberghi di stagione Ricci si sfoga con i suoi albergatori troppo disfattisti duro attacco del sindaco di Pesaro alle associazioni e agli albergatori pensate ai vostri hotel è stata allungata i siti brand ogni idea viene contestata si critica per motivi politici secondo il primo cittadino di Pesaro in moto contro un'auto in sosta è gravissimo poi tutti in fila per sottoporsi all'alcol testa Baia Flaminia controlli dei carabinieri nella notte qua sopra nelle finestre dedicate allo sport Fano scatenato cala il poker e continua l'inseguimento poi la Vis invece si illude viene rimontata e si arrabbia con l'arbitro Vis che giocava contro la maceratese all'Elvia Reci insomma e quindi a dire il vero per un po' ci abbiamo creduto perché ha segnato per prima quindi a un certo punto la maceratese era sotto di un gol tutti speravamo in questa battuta d'arresto poi invece ha rimontato e ciao basket VL da urlo in Sicilia salvezza quasi blindata andiamo sulle pagine interne del messaggero Drudi avanti decisi sull'unificazione delle camere di commercio il presidente dell'ente pesarese invita gli altri colleghi a fornire un contributo di idee chiudiamo con l'ultima pagina di Pesore Provincia sul messaggero ancora pensate ai vostri hotel noi tiriamo dritto duro attacco del sindaco dopo le perplessità sollevate sulla notte rosa il primo cittadino pensino a mettere a posto le strutture invece di saper solo criticare per motivi politici centro pagine invece gli studenti in rivolta pronti a tutto pur di mantenere qui Pesaro Studi nel pomeriggio invece a Loretto nella chiesa di Loretto i funerali del senatore Giuseppe Righetti consigliere comunale e vice sindaco di Pesaro dalla 56 al 75 poi in fondo regione per Minardi un pieno di consensi l'ultima parola ora spetta alla federazione provinciale ma è netto il vantaggio su Perini e su Rosetta Fulvi con questa notizia di politica si chiude qui la nostra rassegna stampa Occhio e Giornali torna domani mattina alle 7.30 in replica come sempre alle 9.10 alle 13.30 e on demanda sul sito internet occhialanotizia.it stasera invece alle 20.30 c'è il nostro telegiornale arrivederci a